Se amate l'arredamento in stile, siete nel posto giusto. Benvenuti da Galleri, il negozio dove il mobile fa storia. Perché? Perché lo acquistate oggi e lo tramanderete di generazione in generazione. E noi vi aiuteremo a mantenere la bellezza dei vostri mobili inalterata nel tempo grazie a questa scatola. E all'interno là c'era quei piccoli ritocchi che renderanno i vostri mobili ancora più splendenti nel tempo. Realizziamo ogni vostro desiderio. Realizziamo tutto su misura. Ad esempio i tavoli. Potrete scegliere il piede che più vi piace, scegliere l'intassio che più si andisce alla vostra casa, che più vi piace e insieme decidere anche la misura. Et voilà, il vostro tavolo sarà pronto. Bellissimo, ma soprattutto unico, qui da Galleri. Da Galleri la qualità è uno stile di vita ed è per questo che anche il professionista potrà venire qui e scegliere uno dei nostri complementi. Come questa scrivania tutta in noce e massello, arricchita da questi preziose greche interziate. Vendiamo sogni, fate volare la vostra fantasia e quest'armadio si trasformerà in un grande affresco perché dipinto completamente a mano. Arrederete elegantemente la vostra camera da letto. Siamo noi a realizzare i nostri mobili e per questo che quando vi diciamo qualità sappiamo realmente di cosa stiamo parlando e qui da Galleri la qualità è certificata ed è garantita. Ed essendo noi i diretti produttori vi garantiamo anche un prezzo eccezionale ed infatti la sala da pranzo che state vedendo, che è composta dalla credenza, da questa bella vetrina grande, comoda, il tavolo rettangolare e quattro sedie ha un valore di mercato che supera gli 8.000 euro ma qui da Galleri la troverete a 5.300 euro. E allora venite a trovarci e vedrete l'intera collezione. E da Galleri non solo arredamento, non solo mobili perché anche l'oggettistica utilizzata per arredare le nostre vetrine naturalmente è in vendita ed insieme ai lumi, ai quadri e ai complementi potrà fare parte della vostra lista di nozze. Eleganti profili in terzi raffinati per questa bellissima parete attrezzata. Tutto è legno massello naturalmente qui da Galleri, costa solo 2.960 euro perché ricordate il rapporto qualità prezzo qui è imbattibile. Si sa, l'ambiente preferito della casa da noi donne è la camera da letto e allora basterà rinnovare un dettaglio, il letto ad esempio e la camera vi sembrerà completamente nuova. Guardate questo bellissimo maestoso sommier arricchito da rose in legno decorate in foglia oro. Se invece amate un gusto più semplice potrete scegliere naturalmente uno dei nostri letti in ferro battuto o in legno. Ma venite a vederli qui da Galleri naturalmente. Raffinate tecniche di alta ebanisteria per tutte le nostre creazioni. E allora venite a vedere i nostri articoli, venite a vedere questo trittico splendido che è lucidato rigorosamente con prodotti naturali, quali la cera e la gomma lacca. E da Galleri naturalmente, oltre i mobili, anche i divani. E poi i complementi, l'illuminazione, i tendaggi. Pensate che qui ogni particolare è curato nei minimi dettagli perché ci piace darvi la sensazione di entrare a casa vostra e non in un negozio qualsiasi. E poi il rapporto qualità-prezzo eccezionale. Vi ricordo che siamo noi a produrre i nostri mobili, quindi acquisterete senza ulteriori passaggi niente intermediari per cui il prezzo sarà veramente conveniente. E allora venite a trovarci anche semplicemente per prendere insieme a noi un caffè. Vi aspetto!